Buonasera gentili telespettatori, bentrovati al consueto appuntamento con 8 gol. Il grande salotto del calcio di 8 channel del lunedì sera dedicato al Benevento, la Serie B, ma non solo. È un 8 gol incerottato, come potete vedere sulla fronte del sottoscritto. È un po' meno incerottato il Benevento, quindi lo abbiamo messo per buon auspicio nei confronti del futuro. Benevento che riesce a pareggiare, anzi, ai punti vince la partita, ma la pareggia con il Bari. Si fa rimontare con un rigorino concesso dall'arbitro Camplone, resiste poi in dieci uomini fino alla fine. Ma devo dire che i dettami di Fabio Cannavaro dalla panchina cominciano a intravedersi e questo fa ben sperare per il futuro. Tra poco vi presenteremo gli ospiti, questa sera un grande parterra a 8 gol, ma cominciamo subito la carrellata dei nostri contributi con il punto di Franco Santo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 perché un po' capitano sei anche tu il secondo capitano possiamo dirlo sono i più vecchi dello spogliatoio come è andata con il Bari? avresti meritato di vincerla questa partita? sì sicuramente per la partita che abbiamo fatto meritavamo i tre punti in questo momento non ci riusciamo forse bisogna essere perfetti fino all'ultimo secondo per portare a casa i tre punti sarà contento dell'Aurentis di vedere questa slide pari sulla A16 voi sapete che l'A16 è l'autostrada che porta a Canusa e poi a Bari e molti tifosi del Napoli dell'Aurentis l'hanno invitato ad andare da quella parte adesso non più adesso non credo proprio la A16 è un lavoro in corso però insomma è sulla A16 che si è verificato questo pareggio il quarto su sei partite Sonia però è stata una partita diversa poi analizzeremo un po' i dettagli perché mi sembra di intravedere degli elementi confortanti nel Benevento un Benevento in crescita sul piano del gioco sicuramente avrebbe meritato la vittoria un punto che sta stretto perché effettivamente a mio avviso il Bari non ha fatto nulla poi è sempre complicato capire se per capacità del Benevento per demerito del Bari ma sta di fatto insomma che in campo si è vista una sola squadra quella giallorossa cresciuta secondo me la compattezza difensiva al di là dell'erroraccio un po' stupidino figlio anche dell'età di Pastina Schiattarella al di là dei problemini fisici perché lui era veramente tutto incerottato tutto fasciato è riuscito a prendere per mano il centrocampo a farlo diventare più di qualità bene la parte destra molto bene Letizia che è stato il migliore in campo dispiace che il fallo da rigore sia capitato proprio a lui perché era stata una prestazione impeccabile prima di quell'episodio bene in crescita anche in prota io era da tempo che non vedevo Riccardo in prota così bene un po' come nell'era in Zaghi quindi sta crescendo la condizione di tutti manca secondo me ancora l'attacco quindi diciamo che è l'ultimo tassello che non segna si vede che ma si vede che sono attaccanti che sono rientrati ma che stanno ritrovando la condizione devono anche un po' trovare continuità Cannavaro l'ha spiegato ha detto giocano troppo distanti non giocano l'uno per l'altro col 3-5-2 o giochi vicino ti cerchi oppure diventa un attacco sterile lo si è visto poco un po' di più nel secondo tempo è lì che deve crescere il Benevento però ribadisco non ce lo dimentichiamo che è una squadra che ha avuto mille problemi anche in avanti come condizione è chiaro che tutti quanti ci aspettiamo soprattutto Francesco Forte ci aspettiamo Francesco Forte del Venezia della Juve Stabia ma anche della seconda parte di stagione col Benevento di Caserta è chiaro manca quello insomma perché a mio avviso con un attacco un po' più importante sabato la potevi tranquillamente vincere al di là della disattenzione di Letizia è vero nel frattempo Regina Genoa il posticipo della giornata sono sull'1-1 Canotto e Aramu gli autori dei gol ecco la classifica giornata al pareggio momentaneo tra Regina e Genoa Arturo Ciullo insomma mi era a sorridere perché appena ho detto il tuo nome hai fatto una faccia è la sua classifica cioè lo puoi intervenire dopo che hai visto quella classifica rivediamo la classifica cos'è che ti spaventa la classifica aspetta io cambio qualche cosa che ho detto cosa ti spaventa fa paura il Benevento che è il retrocesso no assolutamente cioè il terzo ultimo in tutta sincerità sono meno spaventato è da 15 giorni che tutta la piazza ha un po' cambiato atteggiamento i componenti della squadra abbiamo preso coscienza che è questo un campionato difficile dal quale dobbiamo tutte le componenti fare qualcosa così in più per per far sì che la squadra possa raggiungere la salvezza che sostanzialmente merita abbiamo sì 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 io per il momento salvezza non dare le tue sentenze io me le ricordo dell'anno scorso io per il momento dico salvezza che hanno guardato tutti male no l'anno scorso per lui era il Benevento fuori ai playoff fuori ai playoff e ci è arrivato vado la benvenga che dica così forza bene per me in questo momento direi dignitosa salvezza dignitosa salvezza anche perché se l'approccio è stato negativo per tutta una serie di componenti è inutile fare fuori pindarici la squadra con un atteggiamento attento cinico ha cambiato completamente impostazione abbiamo visto queste due gare abbastanza difficili e tra l'altro se proprio dovessi dire qualcosina in più credo che sia stata più difficile quello con il Pisa che è comodato con il Bari e quindi perché il Bari è venuto qua con un atteggiamento guardingo attento anche ha rispettato molto il Benevento quindi mentre il Pisa secondo me ha cercato di vincere la partita quindi questo non bisogna sottolineare comunque due gare difficili quindi il Benevento sinceramente in queste due gare ha cambiato come atteggiamento mi sembra molto più compatto molto più determinato pulito ma nello stesso tempo concreto meno inizi dal basso il portiere ha rinviato sia di fermo che di volo quindi voglio dire la mentalità che bisogna portare a casa il risultato quindi credo che è un ottimo viatico la speranza è quella di recuperare i giocatori lei parlava di forte io penso anche a Simi e senza considerare tutti gli altri perché qualche giocatore importante c'è e quindi bisogna in questo momento fare in modo tale che il gruppo si consolidi per questo io vedi un po' dall'esterno mi rivolgo a Giuseppe Calverisi la realtà del Benevento io guardando questa squadra è vero adesso ci sono infortuni molti attenuanti però non posso credere che l'obiettivo possa essere la salvezza perché sulla carta questa è una squadra che ha dei calciatori che possono ambire a tutt'altro allora la sensazione mia nell'ultimo periodo è che il cambio di allenatore ha portato nuove idee di calcio nuova mentalità nuovo modo di allenarsi e vi dicendo ma la crescita di questa squadra secondo me si vede bene e si vede bene sotto l'aspetto dello spirito che hanno questi ragazzi io ho visto una squadra domenica sabato contro il Bari uno spirito di gruppo importante una grande attenzione nei particolari la fase di possesso palla secondo me puoi intervenire quando vuoi la fase di possesso palla l'hanno fatta con un grande spirito di aiuto voglia di raggiungere l'obiettivo tutti insieme e questo è un grande merito che ha l'allenatore perché credo che subentrare e non ottenere risultati ma riuscire a entrare nel cuore di un gruppo è fondamentale e i risultati arriveranno non la classifica non bisogna guardarla anche se in effetti parlavo prima con Pasquale prima di entrare con Arturo io dicevo non guardiamo la classifica ma io lo sapevo lo so che si guarda la classifica ma se la squadra ha questa idea di seguire l'allenatore questa voglia di fare le cose fatte bene verranno anche in fase di possesso palla le giocate che il mister richiede perché secondo me Francesco Forte è uno che 15 gol li deve fare ogni quante volte la settimana guardate la classifica? no ma in questo momento è inutile guardarla non serve se hai due mesi che non fai vittoria e sai che stai nelle parti basse io poi sono sempre stato abituato visto che un campionato che faccio da anni verso febbraio marzo inizio a guardarla seriamente quindi al momento dobbiamo solo recuperare posizioni e cercare di mettere un filotto di vittorie ma c'è la convinzione di quello che dicevo io prima cioè che è una squadra che come obiettivo della salvezza deve raggiungere certamente la tranquillità prima ma poi può ambire ad altro ma guarda convinzione ce n'è perché si vede che siamo una squadra viva cioè perché c'è se analizzi le partite non c'è mai stata nessuna squadra che ci ha messo sotto mai nessuna squadra che ci ha preso a pallonate hanno avuto 7-8 palle goal il Benevento meritava di perdere poi è normale vedi i risultati e ti devi fare delle domande oggi il Benevento penso che ha sempre fatto il suo gioco con 12 giocatori a disposizione ma non deve essere un alibi però è la verità perché gli altri quando fanno 3-4 sostituzioni che entrano giocatori importanti te non puoi farli il Bari metti Antenucci bell'uomo dentro e te non puoi non deve essere un alibi però sono sicuro che dopo la sosta ci sarà sicuramente un Benevento diverso Nano Calderisi qui giù al palazzo all'esterno degli studi devo essere sincero sei stato un bel siparetto perché c'erano tifosi che aspettavano Schiattarella però hanno fermato Calderisi che ha allenato il Benevento in passato e gli hanno fatto vedere delle foto del passato ti sei commosso intristito che è successo? un po' intristito devo dire perché tutti questi capelli bianchi non ce li avevo ma comunque mi ha fatto molto piacere perché insomma c'erano le foto di quando abbiamo fatto lo spareggio per andare in serie B contro la Juve Stabia contro la Juve Stabia sì no no è stato un piacere no ma io sono contento di quello che dice perché lui rappresenta un po' l'anima di questa squadra e il modo di stare in campo e la voglia di aiutarsi che ho visto secondo me rispecchia una squadra che è viva e ha voglia di fare secondo me forse sotto l'aspetto tecnico Fabio starà lavorando sicuramente anche sullo sviluppo perché quando c'è da difendere ho visto un ordine uno spirito di sacrificio una voglia di lottare su tutti i palloni pazzesco quando c'è da costruire ci vuole ci vuole un pochettino più di tempo per arrivare ad attenere le punte più vicino ha detto una gran cosa perché Francesco ha bisogno di qualcuno vicino per poter esaltare le sue qualità ma sono di una generosità gli attaccanti che fanno paura si corrono da tutte le parti invece secondo me dovrebbero essere più bravi a correre nel modo migliore per poi sviluppare per poi raccogliere tutto lo sviluppo che stanno facendo sia da destra che da sinistra molto bene il treno a destra i due a destra hanno fatto una gara sono già due partite che hanno trovato mi sembra di rivedere i giocatori qualche anno fa meno bene ancora a sinistra dove c'è un po' l'alternanza ogni domenica anche perché proprio ancora non trovano la giusta manca un po' più di qualità a livello di caratteristiche bisogna dargli il tempo sono giocatori diversi parliamo comunque di a destra sono giocatori che hanno fatto la serie A comunque col benevento a sinistra è chiaro che è la catena più debole anche per me penso che sia più facile trovarli perché è abituato infatti andava più a destra e a sinistra per me è uguale ma sono giocatori che sono penso con 4 anni 5 anni che giocano insieme si conoscono a memoria quindi è normale che la manovra a volte si sviluppa più a destra il gruppo c'è le attenuanti le abbiamo elencate insomma comunque ci sono sono un dato oggettivo cosa manca secondo Pasquale Schiattarella veterano diciamo così più esperto tra tutti i calciatori di benevento in questo momento qual è l'elemento che manca che magari potremmo vedere dopo la sosta manca sicuramente la vittoria perché è da tempo che non arriva quando inizieremo a mettere in fila due o tre vittorie sicuramente cambierà tanto ma soprattutto cambierà tanto nella testa dei giocatori poi ti entra più in convinzione è normale anzi io come avevo detto qualche settimana fa sono molto contento dei ragazzi della squadra sono orgoglioso di loro perché in questa situazione la cosa più semplice da fare è che ti lasci andare ti demoralizzi invece non è così siamo tutti i giorni ci alleniamo anche due volte al giorno durante la settimana proprio per cercare di cambiare cambiare questo risultato dare una svolta a questo periodo a questa squadra e quindi senza poi l'inserimento degli infortunati manca un pizzico di convinzione in più nel senso che loro in queste ultime due prestazioni hanno convinto il pubblico ma non sono ancora loro realmente convinti perché quando non riesce a vincere soprattutto per delle disattenzioni secondo me perché il fatto che la vittoria manchi da troppo tempo fa sempre pensare che possa andare qualcosa storto quindi secondo me c'è questo nervosismo a mille che accompagna la gara è che è chiaro che ti fa sbagliare alle volte perché è bisogno comunque di mantenere la tranquillità cioè è come se si aspettano cioè loro stessi si aspettano che qualcosa debba andare storto perché è tutto troppo bello devono essere un po' più convinti e l'autostima insomma manca un po' di autostima secondo me si manca un po' di autostima attraverso il proprio risultato la vittoria io immagino un Francesco Forte che sogna il gol in modo incredibile come rientra negli spogliatoi quando non riesce a fare quello che deve fare ma un po' la convinzione dei ragazzi Sonia ha detto una gran cosa per arrivare alla vittoria la voglia di fare è fondamentale e la convinzione c'è a volte quel piccolo particolare ti fa cambiare una stagione e fidatevi la Serie B lui la conosce meglio di me è un campionato che in un mese ti ritrovi a ridosso dei playoff e in un mese ti ritrovi giù vedi il Monsa l'anno scorso bisogna esserci e loro ci sono secondo me anche perché ad un certo punto ecco per dirla c'è stato un tiro di Francesco Forte che non era da Francesco Forte era 20 metri non era né un passaggio né un tiro quando proprio non sai in quel momento l'insicurezza che ti accompagna e ha fatto quel mezzo tiro che non era nulla che l'abbiamo guardato noi perciò lo ricordo in particolare per dire ma che cos'è poi a un certo punto sulla punizione ha tirato quella punizione a giro bellissima che meritava che ha sferato il palo che ti fa capire che il giocatore ce l'ha le qualità però manca la convinzione nell'attaccante perché manca il gol da troppo tempo nel difensore perché è consapevole che alla prima la paghi anche questo nel Benevento nella testa del Benevento c'è oramai la convinzione che al primo errore la paghi sai quando pensi così prima o poi sbagli allora sai perché hai ragione quando pensi che devi segnare per forza non segni quel tiro di Forte mancava di convinzione cioè era un bel tiro a giro che è uscito perché è proprio almeno la sensazione dello spettatore io la vedevo in tv è che quel tiro fosse privo di convinzione Luca io ho fatto l'attaccante per tanti anni e ti dico la verità come annusa la porta Francesco Forte come è cattivo nel cercare il gol Francesco Forte io di attaccanti ne ho visti pochi così perché veramente l'hai cercato con qualche tua squadra in passato no io l'ho avuto l'ho avuto per due o tre anni a Lucca a Lucca segnava solo lui la squadra era una squadra che giocava molto sugli esterni con palle molto giocavano lui a Rajcevic davanti era devastante devastante nella ricerca del migliorarsi giorno per giorno stop e tiro di qua di destra di sinistro era sempre alla ricerca di crescere lui è un attaccante che sicuramente qualità ne ha da vendere la convinzione per un attaccante io sono in stagione cominciavo a far gol all'inizio non finivo più e delle stagioni che non facevo gol lo cercavo talmente tanto con tanta con tanta rabbia dentro che non mi veniva neanche mi si spostava la porta a volte no è così no ma è quella Karic che ha avuto un'occasione per tirare aveva l'occasione perfetta per calciare lì devi calciare indipendentemente se ce l'hai o non ce l'hai il tiro non l'ha fatto è quello che sta mancando è chiaro che non ce lo dimentichiamo è un benevento che ne ha subite troppo per cui già vedere un po' più di gioco laddove inserimenti nuovi non ce ne sono stati perché c'è da dire anche questo gli infortunati li stiamo ancora aspettando a Ferrara dovrebbe rientrare Glick e forse a Campora però è un benevento che sta facendo miracoli però è un benevento che sta dimostrando e ha dimostrato al pubblico così com'è di poter fare anche delle buone partite però devi essere convinto anche nei singoli perché solo così poi riesci ad ottenere le vittorie allora Spal poi dopo la testa Regina Palermo e a dicembre il Parma e il Cittadella e questi sono i impegni fino all'11 di dicembre del Benevento insomma la Spal sabato e poi dopo la sosta Regina e Palermo quando gli infortunati dovrebbero essere praticamente quasi tutti recuperati che cosa ti convince della difesa a tre varata da Caserta e poi proseguita da Cannavaro anche per una questione di continuità insomma e forse per forza di cose ma io penso che i tre ragazzi si siano ben come impostazione più che per quelli che stanno giocando si siano ben amalgamati e abbiamo fatto una gara anche loro molto attenta sembrano cresciuti sembrano più sicuri di sé io aggiungerei a quello nel discorso di convinzione c'è anche da dire una cosa che probabilmente e questa è una cosa bella che vorrei chiedere a Pasquale Schiattarella probabilmente l'applauso di fine partita penso che vi abbia un attimino tolto da dosso la pressione non tanto a te che sei più abituato diciamo che è un giocatore ormai tanto navigato tanto esperto quindi riesce a sopportare lo stress e la tensione anche in maniera diversa tra gli altri io credo che se la rievolgiamo la partita probabilmente quell'applauso finale vi farebbe interpretare anche la cara con maggiore sicurezza cioè lo volete all'inizio l'applauso sì sì perché io sono convinto che lui è scafato qualcun altro invece ha sofferto un po' la pressione lo stesso Caric non me ne voglia male si vede che era meno era meno intraprendente rispetto al solito i ragazzi i tre difensori centrali sembrano molto più avanti rispetto a tre domeniche fa due domeniche fa domenica scorsa hanno acquistato tanta sicurezza quindi è un bel vedere per il momento Pasquale se applauso fosse arrivato all'inizio forse l'avrebbe aiutato io non penso cioè io non penso che un giocatore quando va in campo spera di ricevere un applauso nel pre-gara cioè è normale l'applauso inteso come ma sappiamo che la gente è stata alla nostra parte sappiamo che la gente c'è sempre stata vicino sono venuti in ritiro per incitarci vengono all'antistadio a fine partita hanno capito il momento di difficoltà e nelle ultime due partite casalinghe siamo uscite tra gli applausi per noi è stata una boccata d'ossigeno però domenica è un applauso diverso ma anche la partita in casa col Pisa hanno capito il momento è una piazza molto matura questa io ho vinto un campionato in B ho fatto la retrocessione in Serie A è sempre stata una piazza che ha capito il momento e anche quest'anno ci sono ci sono molto vicini soprattutto quando andiamo in trasferta e quindi vanno ringraziati e sappiamo che ci saranno fino all'ultima giornata del campionato a battagliare sugli spalti e noi dal campo ci fermiamo andiamo in pubblicità tra poco analizzeremo le partite della gestione Cannavaro cercando di capire i quattro pareggi se sono stati e fino a che punto sono stati meritati dal Benevento perché forse qualche partita poteva andare diversamente cercheremo di analizzarli nel dettaglio tra poco rieccoci in diretta 8 gol il grande salotto del calcio di 8 channel del lunedì sera Regina Genoa è terminato il primo tempo del posticipo della giornata di B 1 a 1 il risultato parziale la fine dei primi 45 minuti la Regina ha fallito un calcio di rigore al 41esimo con Menes siamo con Giuseppe Galderisi ex calciatore della Juve del Verona tra le altre cose del Milan anche è stato campione d'Italia con la Juventus è stato campione d'Italia con il Verona ha allenato anche il Benevento Arturo Ciullo ha giocato nel Benevento difensore roccioso come potete vedere dalla sua stazza anche se è seduto infatti me l'avete messo vicino per non identificare i tempi belli un po' alla Bruscolotti ecco se vogliamo questo è un grande complimento perché quando mi correva dietro Bruscolotti Sonia Lantella responsabile sport di 8 Channel e Pasquale Schiattarella centrocampista del Benevento abbiamo analizzato io ero attaccante io ero attaccante anche tu giocavo no no perché non lo dici mai io ero attaccante giocavo ah no io non lo sapevo proprio perciò non l'ho detto vedi vedi è una bella novità giocavi di attaccante dove Sonia? nel quartiere nel quartiere vabbè però vedi c'era un embrione nel non sapevo no giocavo giochicchiavo abbiamo una squadra al liceo giocavo in attacco veramente e quindi anche Sonia Lantella può essere annoverata tra gli ex calciatori e quindi abbiamo un parterra anche di calciatori ed ex calciatori guardiamo la pareggite del Benevento che soffre di pareggite è un elemento concettuale molto giornalistico non preoccuparti guardiamo un attimo le sei partite della gestione Cannavaro eccole qua allora il pareggio con l'Ascoli il pareggio col Sud Tirol il pareggio con il Pisa e il pareggio con il Bari Sonia Lantella quale dei quattro pareggi davvero poteva essere una vittoria secondo te? sicuramente quello col Bari cioè secondo me col Bari doveva essere una vittoria cioè io sono tornata a casa con l'amaro in bocca cioè il risultato ha avuto la meglio sulla prestazione non riuscivo a vedere l'aspetto positivo di una squadra viva ma sentivo questo peso di non riuscire a vincere quando ci sono molti presupposti per farlo ero molto non arrabbiata chiaramente però amareggiata perché dico sai giochi male ci sta che perdi ma quando giochi bene nemmeno riesci a vincere e non lo so che cosa bisogna fare forse benedirla la squadra è d'accordo con la squadra schiattarella quella col Bari o c'è un'altra partita che vi ha lasciato davvero c'è la vittoria c'è i tre punti col Bari i tre punti con la Ternana perché era una tre punti quella è stata una mazzata terribile due a zero i tre punti con la partita con Sud Tiro io le metto dentro anche abbiamo preso gollo su una palla inattiva per colpa nostra per una disattenzione che poi proprio il mister ci diceva di star svegli perché l'aveva letta prima giustamente con la sua esperienza l'aveva letta prima e ci siamo addormentati e abbiamo preso gollo a che punto a che punto è l'opera di transizione con Cannavaro dopo sei partite e quasi due mesi ormai dall'avvento del nuovo allenatore è cambiato molto nell'impostazione giocate più avanti pressing più intensità ma guarda io penso che il mister molto preparato molto molto preparato c'è anche il suo modo di fare che ti trasporta e la cosa che dispiace perché lui era arrivato secondo me che voleva giocare in un modo e per un'emergenza totale ha dovuto stravolgere tutto quindi secondo me è stato anche cioè per il cognome che c'ha che tutti si aspettano da Cannavaro quel qualcosa in più ha fatto un passo indietro e ci ha messo noi a proprio agio cioè è stato molto intelligente perché aveva capito che in in emergenza avevamo bisogno di più sicurezze lui ci ha dato delle sicurezze perciò secondo me ci siamo messi 3, 5, 2 ecco perché ti dico che questa è una squadra che arriverà in alto perché questa unione che c'è in un momento di grande difficoltà tra l'allenatore e i giocatori lo si annusava in campo guardando la partita contro il Bari si vedeva che mancava quel qualcosina per far esplodere un 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 che segue l'allenatore che crede in quello che fa ma gli manca quel quel pizzico di fortuna quella che arriverà arriverà sono convinto voglio rivedere le partite le sei partite con Cannavalo in panchina Pasquale Schiattarella qual è la migliore partita tra queste sei che avete giocato? io penso il primo tempo con la Ternana il primo tempo con la Ternana è stata è stata una partita fantastica e c'era già l'impostazione Cannavalo era troppo presto giocavamo con un 3-4-3 non l'hanno mai vista cioè la verità è quella non l'hanno mai vista poi dopo cioè non siamo stati bravi noi senza che facciamo troppi giri di parole una partita che vinci 2-0 non so come ma la devi portare a casa soprattutto dal momento che che vieni sì ci vogliono le vittorie anche perché con con i tre punti parliamoci chiaramente i pareggi servono a poco no poi uno dice sì i moduli l'allenatore lì è stata completamente colpa nostra perché dal momento in cui arrivi dove non fai una vittoria da tempo devi portare i tre punti a casa non so come ma se è in vantaggio 2-0 la partita deve finire così contro un'ottima squadra per questo dico se il Benete è riuscito a mettere sotto la Ternana per 2-0 per un tempo è riuscito a battere il Frosinone nella gestione precedente che comunque è una delle migliori squadre di Serie B significa che gli strumenti per fare bene li ha al suo interno cioè sì 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 non è soltanto un raffronto aritmetico questo no sulla convinzione che diceva Sonia loro hanno fatto un primo tempo stratosferico contro una squadra forte se portano a casa quella vittoria lì cambia completamente il mondo nel modo di lavorare nel modo di prepararsi nel modo di vivere la partita in tutto ci vuole quella famosa quel famoso saltino perché secondo me l'unione che c'è e la voglia che c'è di fare è buona è ottima Arturo Ciullo non sei d'accordo no no d'accordissimo anzi la partita migliore è il primo tempo con la Ternana i primi 20 minuti con la Ternana davvero primi 20 minuti sì i primi 20 minuti hanno avuto un ritmo pazzesco squadra alta era davvero un bel vedere probabilmente l'atteggiamento di domenica nella partita con la Ternana la partita non si sarebbe mai perso sei d'accordo passate anche passate anche un mese 40 giorni ma dico atteggiamento soprattutto poi è normale anche la condizione perché c'era tanta gente che non stava bene bene la Ternana poi ha fatto 5 cambi importanti quindi devo dire è stata una partita un po' un po' particolare però è tirata anche bene sì sì e poi il calcio è fatto anche di questo però sono quelle cose che ti cambiano il campionato lui ha perfettamente ragione Sonia ma è chiaro che tra l'altro in queste partite il Benevento non ha potuto far leva sui cambi non ce lo dimentichiamo che il calcio è cambiato dopo il covid ci sono 5 cambi puoi stravolgere le squadre le avversarie possono farlo il Benevento no a parte quei due cambi sulla sinistra Masciangelo Fulon piuttosto che Cuzzupias a centrocampo poi c'è il nulla cosmico cioè non c'è niente vogliamo dare un'occhiata agli infortunati perché allora Viviani e a Campora potrebbero rientrare già con la spalla è vero essere a disposizione Viviani punto interrogativo perché non ce lo dimentichiamo che fuori da tantissimo tempo è in netta ripresa però non lo so se è già per Ferrara a Campora credo proprio di sì gli altri il Cubis ha cominciato a correre tutti dopo la sosta tutti dopo la sosta non so da quanto tempo è che noi mostriamo questa tabella aggiornata ogni settimana già che non c'è Glick se ci metti Glick che è un altro giocatore questa è una squadra forte Glick ha ripreso dovrebbe essere titolare scherzavamo prima con Pasquale il problema è anche questo Cannavaro era molto molto arrabbiato con Pastina proprio per questo motivo perché è vero che Glick è pronto però insomma adesso lo ha costretto ma no dai avere un'alternativa parlavamo della panchina avere un'alternativa in panchina anche per come si può mettere la partita perché magari Glick può non avere i 90 minuti non ce lo dimentichiamo che c'è anche un mondiale il ragazzo quindi psicologicamente incide è stata un'ingenuità che il Benevento non può permettersi e Cannavaro è stato molto molto duro e sotto questo aspetto a me piace molto il suo modo di comunicare perché non le manda a dire e soprattutto non risparmia i suoi e fa bene perché sono professionisti tutti e questo mi piace generalmente l'allenatore tende sempre a difendere prendendo un po' in giro se stesso i calciatori e la gente perché poi non è che gli altri sono stupidi invece lui se deve bacchettare bacchetta lo ha proprio detto lo è un'occasione poi entrano i titolari e se non mi mette in difficoltà lui non entra più Cannavaro ha detto queste parole io infatti sono rimasta perché è difficile che un allenatore possa essere così schietto come lui però ecco secondo me è in questo che sta mancando il Benevento delle ultime partite un po' più di convinzione meno nervosismo eccedere cioè a un certo punto è stato detto ai difensori di non andare di fioretto di buttarla anche fuori però buttarla fuori poi non significa che devi alzare il gomito e tirarlo in faccia all'avversario quindi ci vuole sempre un po' di misura e diciamo che è un Benevento che sta provando a prendere le misure in tutti i reparti Le Verbe l'altro giorno lunedì scorso ci disse che tu parli più schiattarella parla più di palearia ai difensori ma che gli dici ai difensori durante la partita a tutti a tutti no ma no perché Le Verbe proprio disse schiattarella assolutamente ma perché giocando lì in mezzo al campo è normale che vedi un po' un po' tutto più che altro cerco di richiamare un po' l'attenzione perché spesso e volentieri usciamo a volte fuori partita e te ne accorgi quando stai tutti i giorni e lavori insieme con un tuo compagno di squadra da atteggiamenti dai modi di fare se qualche volta esci fuori dalla gara ma quando giochi in Serie A che si dice hai giocato in Serie A è chiaro che c'è un prestigio per un calciatore che ha giocato in Serie A un'esperienza importante concretamente la Serie A che cosa ti insegna poi quando torni in B? sono due campionati completamente diversi la Serie A c'è una qualità completamente diversa dalla Serie B che cosa ha uno che ha giocato in Serie A al di là del nome e del fatto che abbia giocato in Serie A concretamente un calciatore che ha giocato in Serie A rispetto a uno che ha giocato solo in Serie B che cosa ha di più? Secondo me quella convinzione quella voglia di tornare di nuovo nella massima categoria è tutto lì io quando giocavo ho fatto due stagioni in Serie A con la spalla dove ci siamo salvati tutti e due anni sono tornato qui a Benevento in B perché credevo fortemente in quella promozione e adesso invece perché sei tornato? perché manca poco penso alla fine del mio percorso non so ancora quanti anni posso giocare sinceramente ho il desiderio di vincere l'ultimo campionato in Serie B e se proprio devo farlo con qualcuno preferivo farlo con Benevento e servono giocatori così per trasmettere perché lui parla di attenzione richiama l'attenzione e l'attenzione è fondamentale perché la differenza tra le categorie parte sicuramente da un buon piede da un buon fisico da tante qualità che fanno la differenza ma è l'attenzione che fa la differenza in certi momenti o in certe categorie e secondo me più giù vai peggio l'attenzione è minore ma poi non è detto che un calciatore che abbia giocato in A sappia giocare anche in Serie B perché mi sembra che si tratti di un calcio completamente diverso no ma se lui richiama l'attenzione vuol dire che sa benissimo quello che è vicino perché molti calciatori di Serie A arrivano in B che sono a fine carriera quindi hanno anche poco da dare perché quando la Juve di Del Piero Treseguet è andata in B insomma voglio dire non è avuto difficoltà io sto parlando di giocatori di medio livello parliamo di giocatori di medio livello non di Del Piero e Treseguet diciamo che ci sono i calciatori forse anche Pasquale Schiattarella però c'è questa cosa di dire che è un campionato talmente diverso che può non essere adatto ai calciatori di Serie A secondo me quando sei calciatore di Serie A puoi giocare tranquillamente in Serie B il problema è che quando arrivi in B è perché non sei più un calciatore di Serie A oppure ci arrivi ma pensi di essere in Serie B quindi pensi di essere superiore e non riesci a valorizzarti come faresti in altre circostanze e ti adatti al campionato se ti adatti al campionato sei morto perché le tue qualità devono servire ai tuoi compagni di squadra e devono servire alla squadra insomma a far crescere tutti va bene allora visto che abbiamo parlato degli infortunati cerchiamo di capire secondo Fabio Cannavaro a che punto sono i recuperi e anche il beneficio della sosta che aiuterà tanto il Benevento è il secondo contributo lo ascoltiamo di Fabio Cannavaro Sì alternative perché come dicevo all'inizio quando fai delle istituzioni di solito cerchi sempre di migliorare e di alzare il livello di qualità dei giocatori a volte in questo periodo si faceva fatica Glick si è allenato anche ieri con noi in questa settimana sicuramente si allenerà sempre e sarà sempre a disposizione a Campora anche lui da mercoledì giovedì rientrerà nel gruppo dobbiamo essere bravi e intelligenti perché stanno rientrando non possiamo permetterci di correre nessun rischio dobbiamo essere sicuri al 100% che questi giocatori stiano bene anche perché dopo abbiamo la sosta e dobbiamo utilizzare questa sosta come se fosse un vero e proprio ritiro e dunque la sosta come un vero e proprio ritiro Arturo Ciullo tu che sondi molto l'ambiente beneventano perché giri conosci sei stato calciatore del Benevento ecco qual è stato l'impatto di Cannavaro oggi dopo sei partite sulla gente? Beh è normale che non è importante quindi c'è stata una grande curiosità un grande prima un grande fermento poi è normale che la gente guarda al soto guarda al risultato però devo dire che ripeto la cosa importante è aver visto che nelle ultime due gare la sua mano e ribadisco e sottolineo questo concetto domenica c'era soddisfazione ed è stato bello vedere la squadra acclamata e non accadeva da tanto tempo però ed è stato un applauso non giusto per si sentiva che c'è qualcosa che si muove quindi ribadisco il lavoro dell'allenatore è al di là del nome al di là oggi lo si giudica con i fatti con i risultati quindi è normale che ha dalla sua esperienza pazzesca ha dalla sua un carisma incredibile però tutto questo sicuramente servirà al gruppo per trovare la giusta serenità e la giusta convinzione dei propri mezzi nel frattempo la regina è passata in vantaggio 2 a 1 Hernani sul rigore quindi un altro rigore per la regina questa volta trasformato da Hernani 2 a 1 sul Genoa ecco la classifica aggiornata Sonia è stato un pubblico a mio avviso molto maturo nell'applaudire perché sai dopo l'ennesimo pareggio io non l'avrei fatto non li avrei fischiati ma non l'avrei manco applaudito sarei andata via scomporta proprio sai quelle cose proprio lo scomporto totale ma non ecco ecco voglio spiegare non perché ecco uno potesse avercela con loro per la delusione perché sai dopo una partita dove sei convinto di poter vincere tre punti una boccata di ossigeno per la classifica l'ennesimo errore il pareggio in un tifoso sai ti viene un po' lo sconforto e quindi la voglia a prescindere da loro di andartene a casa col classico mal di testa della domenica tornarsi in quel caso era sabato tornarsene a casa quindi è stata una bella prova di maturità e anche tanto ottimismo a mio avviso anche perché eravamo una piazza abbastanza incazzata ecco sostanzialmente sì ma poi si è aperta io vi ripeto una fase depressiva sì sì che ha bisogno di una di una scossa forte infatti per uscirne ha bisogno la scossa forte può essere una vittoria poteva essere la vittoria con la Ternana già tre giornate fa e ne parlava prima quello avrebbe aiutato tantissimo infatti il giudizio di mister Calderisi penso che l'abbia abbia dato la fotografia del momento perché ecco da spettatore esterno anche se voglio dire è normale che il Benevento è una società a lui tanto cara però il giudizio di un tecnico esterno ha visto questa prova di reazione è quello che tutti quanti noi poi abbiamo notato nelle ultime gare che poi è l'aspetto più bello anche se poi c'è da dire anche una cosa che c'è stata la coerenza da parte della curva perché loro dicono sempre che non guardano i risultati ma guardano l'impegno in campo è chiaro che se guardi l'impegno in campo vanno applauditi tutta la vita io che guardo il risultato sono tornata a casa con la rabbia a tosto voglio capire tu sei un risultatista galderisi giustamente uno che fa questo lavoro deve guardare tante cose però io capisco quello che ha detto Sonia il tifoso che va allo stadio può applaudire quanto vuole ma la delusione l'amarezza di non vedere una vittoria comporta un po' di difficoltà e l'allenatore invece? no l'allenatore invece deve essere il fiero voglio capire l'allenatore che vede la sua squadra gioca benissimo fa tutto quello che dice ma non vince io credo che un allenatore e mi sembra di aver capito che Fabio è uno è un diretto è uno che sa quello che vuole e come ottenerlo può essere solo che contento gli girano le scatole e penso che ogni volta che loro hanno portato a casa un pareggio o potevano vincere il tono è uno spogliatoio sono sei partite che non riescono a vincere più quelle che non sono sono 70 giorni sabato con la spalla saranno 70 giorni senza vittoria la squadra che ha più giorni senza vittoria in serie che capacità ci deve essere all'interno di uno spogliatoio a partire dallo staff dall'allenatore dallo staff da giocatori importanti che hanno esperienze nel trasmettere positività quando le cose vanno male è lì che si vede la grande squadra allora guardiamo quest'altro elemento che è emerso nelle sei partite della gestione Cannavaro quella delle rimonte degli altri però ecco i rimontati che insomma è un gioco di parole con il Suttirolo con la Ternana con il Suttirolo si vinceva 1-0 1-1 con la Ternana da 2-0 a 2-3 e con il Bari ora voglio capire una cosa questo è successo sempre nel secondo tempo siete stati rimontati che problema c'è stato un problema di testa un problema di condizione qualche affanno o solo disattenzione io vedo che abbiamo preso 5 gol 3 gol a Ternana uno con il Sud Tirolo e uno con il Bari se prendessi 5 gol sono tutti errori singoli non di reparto per disattenzione nostra perciò bisogna alzare l'attenzione se vogliamo venirne fuori al più presto bisogna essere perfetti fino al 93 in questo momento non ci possiamo concedere il lusso di prenderci una piccola pausa appena che prendiamo una pausa la paghiamo a caro prezzo ma tu come fai? stai stringendo i denti per essere in campo le ultime tre le hai fatte tutte sì sì vabbè io sono in un periodo dove non mi sto allenando con continuità però cerco di tenere botta il sabato per tutta la partita cioè che significa perché entriamo un attimo nel dettaglio perché mi incuriosisce anche visto che noi gli allenamenti ormai non li vediamo da molto tempo quindi sai le squadre non mi alleno con continuità che significa che l'allenamento non lo fai proprio che lo fai è successo stasettimana che non mi sono proprio allenato cioè perché avevo un problema al ginocchio e quindi insieme all'allenatore abbiamo deciso di prendere due giorni solo di palestra e terapia e poi mi sono allenato venerdì con la squadra e sabato hai fatto anche la partitella che si fa quando insomma si prova ho provato venerdì e sabato ho giocato va bene insomma Sonia facciamo un giro su queste su queste rimonte degli altri perché noi l'abbiamo già trattato partita per partita però insomma il secondo tempo ha condannato il Benevento perché nel primo vinceva cioè se le partite fossero finite nel primo tempo il Benevento avrebbe fatto sei punti scusami nove punti in quelle tre partite il problema è che sono disattenzioni errori individuali frutto di cosa in alcuni casi non so può essere la stanchezza fisica può essere la poca convinzione è difficile cioè dovrebbero dirlo i calciatori che hanno commesso quegli errori Letizia è un calciatore troppo esperto per allargare così il braccio può essere che era stremato e quindi quando fisicamente non ce la fai più perdi anche la lucidità mentale in qualche altro calciatore magari anche un po' l'inesperienza l'assumersi una responsabilità più grande di lui non ci dimentichiamo che in questa squadra stanno giocando calciatori che dovevano fare le riserve ma non è dispregiativo attenzione perché è un Benevento costruito per vincere invece sono stati chiamati a giocare a portarsi sulle spalle un periodo sicuramente non non facile in frattempo queste sono le foto della partita dal sito 8 pagine io credo questo credo errori individuali figli di incertezza di stanchezza fisica della impossibilità di far leva sulla panchina e alla lunga paghi ricordo con il Sud Tirol Letizia non era in condizione Cannavaro costretto a sostituirlo con Masciangelo ma Masciangelo non entra bene in partita e diventa un po' quello l'anello debole e poi c'è Leverb che commette l'errore di ingenuità ma non stava nemmeno bene quindi era febbricitante e parliamo comunque di una difesa molto giovane anche sul secondo gol del Como e Capellini che non va a chiudere arriva magari per fare il braccetto a destra si trova a comandare la difesa e qualche ingenuità la puoi commettere è una squadra troppo rimaneggiata di giovani imbottita di giovani che si è dovuta caricare un periodo non facile va bene Arturo Ciullo e Giuseppe Calderisi su queste rimonte volevo sentire Ciullo e poi Calderisi domenica domenica Rigorino non so si Camplone è stato piuttosto generoso io non so se quella palla era rigore tutta la vita era rigore sì dai la palla non lo so chi l'avrebbe ricevuta anche se oggi insomma ieri aver annullato a Danilo dicendo una digressione il gol della Juventus mi sembra una cosa clamorosa con la mano che era bloccata sotto il braccio del difensore è una vecchia discussione che se tu fermi in frammento non male la palla la rendi sul braccio però la palla andava in aria mai e poi mai il gol di Danilo era da annullare in una situazione guardandola anche da allora era rigore allora era rigore perché il difensore ha bloccato la mano c'era sotto il braccio così non si danno perché sono i frammenti se tu guardi il frammento della foto in quel momento la palla è sul braccio allora era è diventato troppo scolastico la palla ha reso scolastico il fallo la rigore questa notte tranquillamente non ci sarebbe mai arrivato l'attaccante avversario domenica io posso solo aggiungere a quello che ho sentito che ci sono dei momenti che sono quelli ci sono dei momenti che vanno così perché non è la paura perché uno che paura di vincere no però c'è quell'ansia quella voglia di arrivare al traguardo per poi accelerare allora ci sono dei momenti dove ti giro tutto male ed è lì che secondo me la differenza di un giocatore importante è fondamentale per i giovani il giovane deve essere più attento e più cattivo perché ci sono dei momenti dove ti girerà tanto bene e dei momenti dove non ti gira bene è nei momenti che non ti gira bene che devi essere bravo a tirar fuori qualcosa in più possiamo dire che questi secondi tempi che hanno condannato il Benevento a una sconfitta e due pareggi anziché a tre vittorie forse afferiscono a quello di cui parlava Schiattarella all'inizio cioè agli infortunati mi spiego se la squadra avversaria riesce a inserire i suoi uomini migliori nel corso del secondo tempo e il Benevento non può farlo perché ha nove dieci otto sette uomini fuori e questo ormai avviene da oltre un mese è chiaro che la squadra avversaria ha un vantaggio anche se magari qualcuno non vuole accettarlo anche se magari non tutti riescono a vederlo però questa è la realtà questa è una delle spiegazioni cioè se io Ternaro la Ternaro ha vinta quei cambi la partita ve lo ricordate però sai Gianluca io credo che bisogna lavorare sulle certezze le ultime gare hanno dato delle certezze del gioco bisogna partire da quelle tutto quello che è accaduto prima fa parte del passato perché dovete cercare per forza le scuse dei suoi infortunati ci siamo dati tutti quanti abbiamo tirato una linea non giudichiamo più il mercato non giudichiamo più l'operato i cambi tecnici i cambi sanitari perché tu hai giudicato il mercato sì sì però abbiamo deciso abbiamo deciso da 15 giorni di tirare una linea non lo vuoi dire no abbiamo deciso da 15 giorni di tirare una linea perché dobbiamo andare in quella direzione ragazzi la classifica è una classifica importante e tutte le componenti devono andare nella stessa direzione quindi da 15 giorni bisogna lavorare sulle certezze visto come è buono Sonia oggi Arturo Ciullo bisogna lavorare sulle certezze ce ne abbiamo Teresco un tecnico qualificato ne ha messo in evidenza qualcuna il calciatore uno dei calciatori più rappresentativi ne ha messo altre voglio dire una giornalista attenta ha fatto praticamente il quadro oggi bisogna lavorare sulle certezze stop bisogna andare avanti comunque è scontato che se io ho disposizione tutta la mia squadra so che se gli viene un raffreddore a schiattarella io faccio giocare un giocatore che è a livello suo quando non ce li hai questi probabilmente qualcosa incide però è anche vero che piangersi addosso non va bene anzi io esalterei quelli che attraverso l'esperienza di quelli che sono davanti o giovani che hanno la possibilità di tirarsi fuori e dimostrare chi sono a Cannavaro al proprio allenatore quello che possono dare durante un percorso di un campionato perché non sarà non è un problema solo del Benevento con tutti questi infortuni vedo che a livello generale giocando tanto i problemi ci sono sono quelli che giocano meno che devono essere bravi a farsi trovare pronti nei momenti giocati e tra le certezze c'è la birra Maganuce che porta il nome della prima strega di Benevento mi raccomando bevete con criterio e responsabilità sempre e mai alla guida dopo aver bevuto e tra le certezze quindi c'è la pubblicità ci fermiamo ma c'è un'altra certezza che dopo la pubblicità ci collegheremo con la redazione di Roma del Corriere dello Sport Stadio tra poco Rieccoci in diretta 8 gol il grande salotto del calcio del lunedì sera di 8 Channel Regina Genoa 2 a 1 il risultato vi daremo tra poco il finale siamo con Giuseppe Galderisi ex allenatore del Benevento tra le altre cose Arturo Giullo ex difensore del Benevento Sonia Lantella responsabile sport di 8 Channel e il mediano il centrocampista del Benevento di Cannavaro Pasquale Schiattarella tra poco collegamento con il Corriere dello Sport Stadio redazione di Roma però visto che c'è Schiattarella non possiamo non dedicargli questa slide ecco la vediamo ecco la no ecco qui insomma gli abbiamo dato del re gli abbiamo messo anche la corona ti senti il re del centrocampo no 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 sono solo contento di essere ritornato qui perché come tutti sanno non ci siamo lasciati benissimo quella retrocessione ancora ha lasciato il segno qui la porto ancora addosso oggi io perché non è che l'ho digerita quindi sono contento che sono tornato c'è un clima diverso fa piacere perché penso che è veramente l'ultima maglia che indosserò da qui alla fine della mia carriera sono molto belle queste parole ci colleghiamo con Ettore Intorcia Corriere dello Sport Stadio Ettore buonasera 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 a tutti allo studio agli ospiti e soprattutto a chi ci ascolta da casa ciao Ettore caro Ettore abbiamo chiacchierato un po' con Pasquale Schiattarella con Sonia Lantella con Arturo Ciullo e con Giuseppe Galderisi è un benevento che comincia ad assorbire diciamo i dettami di Cannavaro e a giocare in maniera diversa ed essere anche più convinto sei d'accordo? sì non è al 100% il benevento di Cannavaro è il semplice fatto che in questo momento ogni scelta dell'allenatore è condizionata dagli infortuni quindi la formazione spesso e volentieri la fa la fa più lo staff medico che che il buon Cannavaro però si vede qualcosa di di diverso si vede innanzitutto una squadra che almeno per i giocatori che sono disponibili ha fatto sicuramente uno o due step in avanti sul piano della condizione e direi che è paradigmatico vedere Schiattarella in campo per per l'intera cosa che magari fino a qualche settimana fa era era un poettino più complicato quindi si vede un atteggiamento diverso magari condizionato ancora da alcune scelte che sono che sono di fatto obbligate però si vede una una prevenzione diversa contro il Bari che era una partita complicata oggettivamente credo che Paliari abbia dovuto fare una parata e una mezza parata poi sul sul calcio di rigore per cui è una squadra che ha concesso molto meno in termini di occasioni a una rivale sicuramente più in palla e più in condizione e direi che tutto questo poi è stato anche percepito dall'ambiente perché mi sembra che anche il pareggio sia stato accolto con comunque guardando il bicchiere mezzo pieno con la consapevolezza che è un risultato assolutamente stretto per il benevento per quello che è stato lo sviluppo della partita poi piano piano Cannavaro inizierà ad avere sempre più giocatori a disposizione avrà delle scelte in più e quello deve essere anche il momento di dare una svolta in classifica con dei numeri e con la prima vittoria di Cannavaro basta che qua non si perde Cannavaro basta è vero allora io guarda mi hanno sorpreso molto e non le ho dimenticate le parole di Pasquale Foggia il dettore sportivo la settimana scorsa chiedo alla regia se c'è la possibilità di ritrovarle quelle parole perché lui dimostra e lo esprima anche in maniera abbastanza forte di essere convinto assolutamente convinto che il benevento risalirà la china in questo campionato chissà se riusciamo a ritrovare quelle parole della settimana scorsa di Pasquale Foggia eccole qui ascoltiamolo è stato un gesto apprezzato da me apprezzato dal presidente ma mai preso in considerazione perché onestamente sta facendo il massimo con quello che oggi ha a disposizione quindi va solo sostenuto va sostenuto lui lo staff va sostenuto la squadra poi ripeto i processi farli a ottobre serve a poco mancano tante partite perché poi dopo se diventa bella sarà bella spero per chi c'è sempre stato è quasi una minaccia anch'io però l'ho sempre pensato così nel mondo del calcio è facile criticare quando le cose va male è quando le cose va male che devi avere gente vicino che poi merita il tuo abbraccio perché se no è troppo facile è chiaro che chi ha fatto calcio sono parole che no Arturo tu hai capito quando verrà il bello ci sarai tu ci sarai siamo sempre stati e ci saremo e ci saremo quindi il messaggio chiaro è anche ad esempio lui parla anche di mercato dà il messaggio chiaro dicendo giudicatemi quando tutti i calciatori entreranno in condizione non lo fate adesso dove metà squadra è fuori dice io sono disposto alle alle critiche anche ad andar via ma fatelo quando tutti i calciatori saranno dentro e quindi quando si vedrà la mia mano e quindi la mia squadra non ora che ci sono effettivamente troppi infortuni quindi chiede pazienza anche nei giudizi sul suo operato e sul mercato e quindi Ettore Intorcia dal Corriere dello Sport non è solo un alibi perché anche il direttore sportivo si rifà gli infortunati come dicevamo prima è un elemento oggettivo e il bello arriverà sì perché è un dato oggettivo insomma tu riduci riduci innanzitutto numericamente la possibilità di scelta per un allenatore poi se aggiungiamo che nel numero degli infortunati ci sono molti anzi direi troppi titolari questa cosa diventa ancora più più pesante da da gestire perché in una squadra devono essere tutti quanti coinvolti e tutti sentirsi importanti poi è evidente che ci sono ci sono come direbbe a leghi delle categorie ci sono delle gerarchie per esperienza anche per qualità individuali per caratteristiche di gestione della partita della pressione quindi non puoi pensare di avere in un gruppo tutti pronti nello stesso momento sotto tutti gli aspetti quindi il problema non è solo il numero dei giocatori indisponibili è anche chi è fuori in questo momento e in questa situazione di emergenza c'è anche chi si è dovuto sacrificare insomma avete lì il regista del Benevento che sicuramente ha dovuto forzare e correre anche dei rischi in una certa fase però ha fatto quello che andava fatto cioè serviva prendere per mano la squadra e farlo anche quando magari avrebbe avuto bisogno di qualche allenamento in più quindi bisogna tenere nel punto tutto quello che è accaduto in questa fase quindi insomma sicuramente Cannavaro non è un tecnico fortunato questo mi sembra che possiamo dirlo perché da quando poi è arrivato ha dovuto affrontare una serie di emergenze e di situazioni molto diverse alcune cose sono state anche affrontate con delle soluzioni drastiche direi la società ha rimesso mano anche allo staff medico prendendo anche delle decisioni magari sofferte dolorose però ha fatto delle cose perché evidentemente ha analizzato che ci fosse una situazione non più sostenibile perché gli infortuni capitano poi di essere anche bravo oltre che a prevenirli anche a recuperare i giocatori al meglio e nel minor tempo possibile quindi sicuramente le cose possono solo migliorare da qui da qui a gennaio servirebbe è chiaro il risultato tipo la vittoria che poteva arrivare con il Bari servirebbe insomma una vittoria che possa sbloccare anche mentalmente tutti e possa dare anche sostanza alla classifica ti do qualche minuto per riflettere su una curiosità da sottoporre fra poco a Pasquale Schiattarella nel frattempo vado da Sonia Lantella perché Pasquale Foggia dice il bello arriverà chi c'è c'è chi non c'è non c'è chi è che non c'è io credo che sia stato un modo di dire nel senso che chi ci sta seguendo chi viene allo stadio chi si supporta si divertirà anche dopo chi non c'è pace è chiaro che è anche un modo di dire c'è anche tanta allora Pasquale Foggia sa di essere molto criticato sa di essere finito un po' nel bersaglio è chiaro non è uno da social però glielo riferiscono glielo riferiranno sa che è stato messo sotto accusa quindi è chiaro che non ce lo dimentichiamo che anche lui è un ragazzo di 39 anni e quindi un pizzico nelle sue parole anche di non voglio dire rabbia però di rammarico c'è e quindi quando dice quello è perché anche lui sente di dire occhio però non ci abbandonate non ci abbandonate tutti perché poi quando il bello arriverà restano le parole impresse sui social non è che poi diventiamo tutti saliamo tutti sul carro dei vincitori quindi è normale insomma che un pizzico di rammarico nelle sue parole si legge ma lo sa fin troppo vedo scusami ti do subito la parola vedo i messaggi che arrivano ho letto qualcuno adesso che la gente è molto soddisfatta della partita con il Bari e anche del gioco espresso cioè la gente i tifosi hanno cominciato a intravedere diciamo così delle novità è un gioco piacevole quindi continuate così scrivono i tifosi Nano Galderisi no no si parlava prima delle parole del direttore allora a volte il nemico te lo devi anche cercare la sfida che devi avere ogni giorno per andare a superare anche un pochettino queste difficoltà devi darti devi trovare qualcosa che ti motivi ti dia più cattiveria nel fare le cose però lui è convinto che questa è una buona squadra perché se no non se ne esce con queste cose e se ne esce con queste cose perciò mi ha sorpreso me le sono ricordate me le ricorderò fino alla fine della stagione e sono belle per i giocatori perché il giocatore è attento a tutto è attento a come si comporta l'allenatore è attento a come si comporta il direttore e chi invece punta il dito in questo momento qua non fa parte di un gruppo che deve diventare vincente perciò credo che lui abbia detto delle buone cose per il futuro Parlate spesso il direttore il direttore è una persona no perché è un buon rapporto è una persona fantastica è sempre presente in tutti gli allenamenti da quando inizia alla fine l'allenamento parla con tutti i giocatori e in questo momento lui è un nostro punto di riferimento sia lui che il presidente che che l'allenatore perché è una squadra che non vince per due mesi hai tre persone che sai che puoi andare lì e trovi sempre una porta aperta per parlargli o per qualcuno che ti dà una pacca sulla spalla per farti sentire che sei un giocatore forte noi li ringraziamo perché anche quella settimana di ritiro che abbiamo fatto erano sempre lì presenti tutti i giorni a volte la gente non lo sa perché giustamente non stanno insieme a noi ma sono dei punti di riferimento importanti per noi Ettore Intorcia torniamo al Corriere dello Sport Stadio redazione di Roma hai una curiosità per Pasquale Schiattarella beh innanzitutto sono un po' preoccupato quando insomma lui dice ultima maglia e fa pensare che magari tra 4-5 anni smette avendo conosciuto l'inizio della sua carriera in primavera mi fa ricordare che insomma sono invecchiato anch'io e in una chiacchierata ci siamo fatti un po' di tempo fa Pasquale ha spiegato la genesi di questo suo ruolo da regista che è stata una sua intuizione per costruire una carriera più solida e più lunga gli chiedo quale sarà la prossima se farà un po' già un disegno come 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 Raffaele Palladino che che lo riconosce bene insomma che due o tre anni fa gli stavo a Monza faccio l'ultimo anno gli ho detto poi sai lì mi fanno diventare allenatore c'è questa idea ecco la sua prossima intuizione qual è si vede allenatore direttore sportivo questo sempre verso il 2027 io c'è proprio nel periodo del covid dove quei mesi siamo stati rinchiusi forzati a stare a casa leggevo le tesine di tutti gli allenatori perché stavo lì a casa non potevo far niente ho capito che mi piaceva il mio tempo libero lo passavo leggendo le tesine degli allenatori poi mi piace quando vedo gli allenatori che spiegano che la squadra gli va dietro cioè è una cosa che mi piace non so tra quanto tempo lo farò ma spero che un giorno avrò l'occasione ricordiamo anche Palladino è di Mugnano si si ho giocato anche qui a Benevento vi conoscete ragazzi si siamo amici abbiamo fatto la scuola calcio insieme giù al nostro paese poi lui era andato via da Benevento e sono arrivato io lui Juve e io sono stato venduto al Torino è una cosa incredibile nessuno si aspettava questo esploat in Serie A invece insomma sta facendo benissimo speriamo che continuo così eh magari ci riuscirai anche tu me lo auguro me lo auguro gioca 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 per il momento gioca finché puoi gioca finché puoi che è la cosa più bella del mondo allora grazie a Ettore Intorcia Ettore buon lavoro buona serata grazie al Corriere dello Sport Stadio buona serata a tutti grazie Pasquale tu non giocavi da regista quindi all'inizio hai cambiato ruolo io giocavo da mezzala tutto è cambiato ai tempi della Spal che sabato sarò l'ex che semplice un giorno mi ha messo lì Play una partita importantissima in Serie A tra Crotone e Spal e da lì poi è andato avanti il mio percorso da Play che mi divertivo veramente mi ha allungato la carriera perché se no già a quest'ora ci avevo smesso perché non c'avevo più il passo o l'inserimento da mezzala ho avuto una bella intuizione in quel periodo ti avevo al fantacalcio mi ricordo ci fermiamo andiamo in pubblicità tra poco ci proietteremo verso il settore giovanile ma soprattutto verso il match con la Spal con Schiattarella ex di turno ma con una sfida tutta mondiale tra due campioni del mondo Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi a tra poco rieccoci in diretto 8 gol il grande salotto del calcio di 8 channel del lunedì sera dedicato al Benevento alla Serie B ma non solo con Giuseppe Galderisi con Arturo Ciullo con Sonia Lantella e con Pasquale Schiattarella arrivano molti messaggi di tifosi mi fa molto piacere soddisfatti dell'ultima partita del gioco espresso del Benevento anche confortati a questa partita in tanti sono stimolati a pensare in maniera positiva verso il futuro a cominciare dal match con la Spal di sabato prossimo di cui tra poco parleremo e a proposito dei miglioramenti ne ha parlato anche Fabio Cannavaro che è stato molto schietto guardiamo questo contributo c'è tanto rammarico perché io anche nelle altre partite ho sempre avuto la sensazione che la squadra era in campo che la squadra era viva che la squadra comunque cercava di proporre del gioco e il problema è che andiamo sempre a casa in questo periodo con tanto rammarico oggi un po' di più perché siamo stati bravi a gestire una squadra che era in forma una squadra che era al completo siamo stati bravi a fargli fare quello che volevamo noi in non possesso in possesso l'abbiamo messa molto in difficoltà peccato che il secondo tempo abbiamo fatto un passo indietro e non un passo in avanti perché gliel'avevo detto che non potevamo stare tutto il secondo tempo dietro e difendere l'1-0 questo è avvenuto paradossalmente quando c'è stata l'espulsione di Passina quindi a me è piaciuta la reazione sono stati bravi questa è l'unica strada che conosco nel calcio quella di lavorare andare avanti cercare di recuperare gli infortunati perché è normale che quando affronti una squadra del genere che ti mette cinque giocatori di categorie importanti e tu magari non riesci a controbattere è difficile però sono contento dell'atteggiamento dei miei giocatori il fatto che sono usciti tra gli applausi fa capire a tutti quanti che questa è la strada giusta ringrazio i tifosi perché per uscire da questi momenti c'è bisogno di tutti e dunque l'intervista di Sonia Lantella nel corso di offside dopo la partita dell'altro giorno perché Arturo Ciullo la gumine forte continuano a non segnare o segnano col contagocce beh questa domanda la devi fare al bomber no no è prima di tutto al bomber oltre che ma io credo che ritorniamo al discorso di prima devono trovare la serenità e poi ha bisogno di lavorare insieme di lavorare con di trovare comunque la continuità nel gioco cioè questo è un organico che si sta si sta costruendo un po' alla volta però l'altro giorno noi vedemmo un dato c'è alla base va bene quello che hai detto c'è alla base il fatto che il Benevento comunque tira poche volte in porta beh per cui se si tira poche volte in porta è più difficile segnare questo è un dato di fatto no Galderisi quello che dicevo inizialmente secondo me e l'ha detto anche Fabio nell'intervista in fase di non possesso palla sono stati veramente molto molto bravi aggressivi ordinati cattivi attenti adesso bisogna crescere sotto l'aspetto dello sviluppo di certe situazioni per mettere in condizione l'attaccante di fare il suo lavoro far giocare sempre l'attaccante di spalle alla porta serve ma fino a un certo punto bisognerebbe mettere in condizione l'attaccante di guardare la porta o di mettere in difficoltà il difensore quando le palle sono sugli esterni per cercare di fregarlo come gli attaccanti veri sanno fare Pasquale Schiattarella dal tuo punto di vista per mettere in condizione i vostri attaccanti per le loro caratteristiche di andare in gol è preferibile una manovra sulle fasce con il cross o una verticalizzazione al centro? ma entrambi perché gli attaccanti segnano sia dai cross che da una situazione più centrale sicuramente la squadra deve fare di più in questo momento per aiutarli ma anche loro devono fare di più per cercare di trovare il gol stiamo lavorando perché è normale che vogliamo che Forte Agumina Simi Farias vanno tutti in doppia cifra sono giocatori che possono farlo sono giocatori che possono andare tranquillamente in doppia cifra noi crediamo in loro e siamo sicuri che arriveranno il loro gol i cinque giocatori che ha nominato sono cinque giocatori che in Serie B sono un lusso per questo le parole di Foggia hanno un grande fondamento di verità e fa bene per questo l'obiettivo del Benevento non può essere la salvezza ma ha fatto bene a dire queste cose perché qui c'è un parco attaccanti da 40 gol ho detto 40 per dire una cifra alta ma voglio dire importante va bene diamo un'occhiata al settore giovanile del Benevento vediamo a che punto è il percorso primavera la partita dell'ottava giornata il Benevento ha perso col Crotone 2 a 0 ma mantiene la terza posizione anzi la seconda in condominio con il Pisa e quindi insomma Benevento che mantiene le prime posizioni guardiamo l'Under 17 1 a 1 tra Ternana e Benevento nella partita della nona giornata Benevento in questo caso quinto in classifica qui invece sia l'Under 16 che l'Under 15 hanno riposato e quindi sono partite legate alla quinta giornata della settimana scorsa Benevento che ha vinto a Salerno ma lo abbiamo già visto è che è al secondo posto in classifica fondamentalmente a pari merito con Lazio Regina e Lecce Under 15 anche qui c'è la partita della settimana scorsa vinta dalla Salernitana per 2 a 1 e il Benevento che è in classifica al quinto posto dopo la Roma la Lazio la Salernitana e il Palermo questa è la sensazione di un settore giovanile che Arturo Ciullo mi sembra di tutto rispetto il lavoro che si fa a Benevento sul settore giovanile è tra i migliori d'Italia beh guarda è un gruppo che sta facendo un lavoro importante e credo che comunque tutto questo possa poi confluire è utile soprattutto per la prima squadra pare che la strada che sia stata disegnata stia già dando dei buoni frutti quindi speriamo che continui in questo modo allora guardiamo la slide del match con la spalla eccola qua sfida mondiale ci sono De Rossi e Fabio Cannavaro ovviamente Carasonia questa partita sarà seguita da 8 Channel anche con il post partita il consueto appuntamento con Offside è una sfida suggestiva anche perché ci sono poi dopo parleremo dell'ex di turno che schiattarella però c'è questa sfida tra due campioni del mondo beh oramai non è più una novità ma non è più una novità nel senso che la B li sta accogliendo tutti quindi è così non sorprende più più che altro secondo me De Rossi avrà il dente avvelenato perché un po' male c'è rimasto non ce lo dimentichiamo nei confronti del Benevento? e beh certo è certo c'era insomma una situazione è stato vicinissimo al Benevento forse più che vicinissimo insomma più che vicinissimo e dopo il secondo esonero di Caserta perché il primo non andò in porto secondo me si aspettava una chiamata è finita la partita la Regina ha vinto 2 a 1 sul Genova quindi è il risultato finale dopo sette minuti di recupero Pasquale Schiattarella come te l'aspetti questa partita insomma da ex? ecco voglio capire gli ex se segnano non esultano tu esulterai? ma guarda io penso che il rispetto si dimostra in un altro modo vecchio giocatore come me che fa un gol all'anno io alla spalla ho dimostrato con i fatti che abbiamo vinto un campionato al primo posto con 80 punti e due salvezze in Serie A sono andato via che ho un bellissimo rapporto con la gente l'anno scorso quando sono arrivato tutta la gente mi ha applaudito è stata un'emozione fantastica per me poi se faccio gol è normale che esulto ho esultato contro il Napoli quando ho fatto gol ma è una questione al momentanea distinto faccio un gol l'anno è difficile trattenersi quindi dovesse segnare il rispetto non è quello quando dai tutto per la maglia per i colori che in quel momento difendi quello è il rispetto quando studi la maglia facciamo quando hai fatto tra quest'anno zero quindi voglio dire togli il suo tempo domenica il Benevento ne ha segnati pochi 10 ne ha segnati e ce la dedichi così facciamo siamo tutti segnati pochi però devo dire il Benevento rispetto alla SPAL che ha 4 punti in più in classifica ha subito un gol in meno Benevento il Benevento 13 la SPAL 14 quindi è una squadra che comunque insomma i gol li subisce la SPAL adesso ha avuto una grande vittoria in casa vinto 5-0 adesso ha pareggiato l'ultimo 0-0 campionato di Bello il bello della B è che te la puoi giocare contro chiunque se tu stai bene e ci credi puoi giocartela contro chiunque senza guardare tanto la classifica quindi tu io sono contento se lui si toglie sti imbarazzo fa gol di sinistro domenico sabato di sinistro vediamo qua abbiamo due problemi uno che lui deve far gol e lui deve ritornare in banchina perché sta scalpitando dopo un'ora ragazzi sai che tu è pazzista c'è una carica c'è un'energia pazzista qui c'è il gota guarda c'è Sonia Lantella che è il gota dei giornalisti soprattutto da queste parti però non solo Pasquale Schiattarella che insomma ecco perché gli dico di giocare perché l'allenatore è un bellissimo è un bellissimo mestiere a me piace tantissimo piacerebbe anche a me adoro 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 vivere i giocatori adoro studiare il calcio adoro imparare e migliorarmi sempre di più insomma e stare fuori per me penso per tutti quelli che sono fuori che entrano ma anche quelli che vengono esonerati è un massacro mentale ma questo l'abbiamo scelto perciò gioca gioca e allora beh insomma parliamo di nuovo di una vittoria che è quello che manca al Benevento auguriamoci che possa arrivare proprio sabato contro la Spal prima della sosta che poi consentirà a Cannavaro di avere quasi tutti gli infortunati a disposizione e di lavorare anche per due settimane in buona tranquillità per dare ancora di più i suoi dettami alla squadra e quindi vedremo dopo la sosta con la regina e poi con il Palermo e poi con il Parma e poi con il Cittadella fino a dicembre un Benevento in crescita ulteriormente in crescita vero Sonia Dantella? ce l'auguriamo grazie per essere stata con noi come sempre a voi buonasera e l'appuntamento ovviamente con tutti i contributi settimanali di 8 Channel legati al Benevento al calcio e allo sport in genere e poi sabato prossimo dopo il match con la Spal offside come sempre grazie a Pasquale Schiattarella in bocca al lupo per la stagione e a presto e anche in bocca al lupo personali grazie ad Arturo Ciullo per essere stato con noi grazie a Giuseppe Nanu Galderisi un ultracampione d'Italia come possiamo definirlo un allenatore che ha fame un allenatore che ha fame di allenare e un opinionista che insomma in questo momento segue il Benevento segue il Benevento e allora da ex allenatore del Benevento peraltro buonasera a Nanu Galderisi grazie a tutti per averci seguito noi torniamo lunedì prossimo a ridosso della sosta e due giorni dopo il match con la Spal sperando di raccontare una vittoria del Benevento buonanotte a tutti 4 risultati utili consecutivi e 6 punti portati in cascina non è stato male l'inizio della carriera da allenatore per Daniele De Rossi campione del mondo insieme a Cannavaro in Germania e che è stato tra i papabili a occupare la panchina giallorossa nel dopo Caserta De Rossi ha dato equilibrio alla squadra cambiando subito modulo rispetto al predecessore Roberto Venturato passando dal 4-3-1-2 al 3-4-1-2 De Rossi ha dato delle certezze alla sua squadra nelle scelte in difesa si è visto spesso il terzetto formato da Peda dalle Mura e dal Sannita Meccariello a centrocampo figurano Dickman Valzania Esposito e Celia ma il tecnico capitolino ha fatto costante affidamento anche sulle qualità di Murgia e Tribaldelli nel match giocato con la Ternana e terminato con un pareggio a reti bianche ha agito tra le linee Maestro alle spalle della coppia offensiva titolarissima formata dall'ex giallorosso Moncini e da Lamantia Moncini ha messo a segno due reti condite da tre assist il calciatore più presente della Spal e Lamantia capocannoniere della squadra con quattro gol all'attivo positiva anche la stagione di Maestro che di reti ne ha realizzate tre Spal Benevento torna dopo il precedente dello scorso 16 gennaio Almazza terminò 1-1 con vantaggio Sanita filmato da Teglio e risposte estense di Jacopo da Riba filmato da Teglio filmato da Teglio filmato da Teglio